Ciao a tutti, sono Silvia e volevo parlare della palette della Pixi Petra, quella che ho già parlato in altri video molto bene. Questa palette ne parlerò nel dettaglio. I colori sono caldi tendenzialmente, sono 15 e sono clean, panna opaco e ha un colore non pieno, fresh, rosa chiaro satinato, è un colore anche questo non pieno, sunny, giallo chiaro specchiato, sand, marrone chiaro con riflesso argento, world walk, marrone medio freddo opaco, colore pieno, casual, marrone rosato opaco, poco pigmentato, marrone caldo opaco colore pieno, confident, lacciola satinato con riflesso giallo colore pieno, free, marrone medio satinato con effetto specchiato, sunset, marrone e anche qua il free ha un colore pieno, sunset, marrone scuro satinato colore pieno, shade, marrone caldo medio satinato colore pieno, elanite, nero opaco colore pieno, pretty, pretty, marrone chiaro rosato brillante con riflesso giallo chiaro freddo colore non pieno natural, marrone chiaro freddo opaco, poco scrivente, poco pigmentato, di chai, marrone medio caldo satinato grigio, chiaro pigmentato, quindi questi sono i colori visti sicuramente nel dettaglio ovviamente da parte mia. Con questo è tutto, vi do un anticipo, di un altro video che manderò a breve, che sarà il video della Look Fantastic del 2021, dove parlerò del prodotto all'interno e come si utilizzano, vedo l'ora di fare questo video, ci vediamo alla prossima, su Silvia Corri in Makeup, seguitemi su Facebook, Youtube e Instagram, alla prossima!